pericolo per il Napoli il tocco di Zilischi sul pallone parte Guaraskelia entra in aria dalla destra salta tutti, non tira, lo fa Trapp, deviazione in calcio d'angolo grande azione del Napoli grande recupero di Zilischi va via l'avversario in accelerazione, Zilischi il passaggio per Guaraskelia in aria il tiro e la palla deviata da Trapp, finisce fuori la conquista ancora il Napoli lo botca con l'effetto va da Politano, il cross sulla destra, Osimè di testa gol, 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 gol di testa sale in cera e parte tutti nulla da fare per Trapp Victor, Victor Victor Osimè fa esplodere il Maradona in un gol liberatorio che arriva proprio allo scadere è sempre Victor Osimè che va a segnare è salito in cielo si è fermato e poi ha colpito di testa con un gran colpo e ha battuto Trapp alla fine ora va verso la telecamera Osimè Napoli 1 ma c'è Kim che va in vantaggio sull'avversario scambia con un con un compagno Kim in aria tenta lui di tirare e la palla finisce fuori di poco che cosa ha fatto Kim Guaraskelia punta buta poi si porta verso il centro va al cross dall'altro lato Politano in aria di rigore raccoglie la palla servizio per Di Lorenzo il cross gol gol Osimè ancora lui Osimè Osimè spinge il pallone in rete è un gran gol si è fatto forse male ma c'è il gol c'è il gol del 2 a 0 tutti i compagni però vanno da Osimè che si è fatto male anche l'arbitro c'è quindi il raddoppio del Napoli al 47esimo ancora con Osimè Napoli 2 Eintracht 0 Guaraskelia che tenta il cross ancora per Di Lorenzo con il petto per Zilischi non riesce a far passare la palla per Di Lorenzo poi viene messo a terra Zilischi rigore rigore indica il dischetto penal quindi per Zilischi è pronto l'arbitro 5 4 3 2 1 il tiro gol 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 il compagno Zilischi Beffa Trapp che si tuffa a destra lui tira centrale e fa 3 3 a 0 il Napoli e Samba qui al Maradona con un grande Napoli fischia l'arbitro finisce la partita Napoli che batte l'Aitra per 3 a 0 doppietta di Osiman segna poi Ziliski il Napoli è nei quarti nei quarti di finale iscriviti al canale